Come interprete in televisione è stato nel cast delle miniserie La Donna di Cuori, del 1969, in cui impersonava il ruolo di Callum, e La Donna di Picche, del 1972, in cui rivestiva i panni del capitano Blanco. Agli inizi della sua carriera nel doppiaggio è stato a lungo socio della S.A.S., Società Attori Sincronizzatori e successivamente è stato uno dei soci fondatori della CV di Cine. Videodoppiatori insieme a tanti attori, doppiatori tra cui Giancarlo Giannini, Oreste Lionello, Corrado Gailpa e Giancarlo Maestri.